Ufficialmente si partirà il 1 gennaio del 2019, ma oggi, durante un incontro pubblico con le associazioni di categoria, il Comune di Andri, attraverso il neoassessore per Paolo Matera, ha presentato il nuovo regolamento per i Deors sul territorio cittadino. Regolamento al centro di tante proteste e di un vero e proprio caso, soprattutto per gli esercenti del centro storico, che in questa annata hanno dovuto attendere l'estate inoltrata per veder risolta la questione autorizzazione e la pioggia di multe ricevute. Un altro elemento di novità è che la sovraintendenza, e quindi questa intesa, è limitatamente circoscritta, così come dice il nostro piano regolatore, a ciò che è ricompreso nell'anello del centro storico e non fuori. Quindi, secondo il nostro punto di vista, è errata l'interpretazione che considerava anche valore storico la strada su cui insisteva un immobile di valore storico, perché non è una previsione espressamente prevista da alcuna norma. Nel nuovo regolamento sono tre i diversi ambiti individuati dall'ente a partire da quello che comprende il centro storico più interno attorno a Piazza Vittorio Emanuele II, già Piazza Catuma, passando per la parte interna delle strade di Piazza Duomo e Piazza Umberto I, scendendo sino a Porta Santa. In questo livello più restrittivo non vi sarà in sostanza la possibilità di occupazione del suolo pubblico, se non per una parte di Piazza Vittorio Emanuele II, esclusivamente con tavoli, sedia, ombrelloni, paletti e corde di delimitazione non superiori a 40 metri quadri. Nell'ambito 2, invece, ci sono tutte le altre strade del centro storico sino all'anello estramurale, per concludere all'ambito 3, dove c'è tutto il resto della città, comprese anche vie come Corsocavo, via Regina Margherita o via Le Crispi. In questi due ambiti sono ammesse anche pedane ed in particolare nell'ambito 2, serviranno soprattutto come raccordo tra marciapiede ed asfalto, oltre che per pavimentazione sconnessa. Ammessi anche paletti metallici ammovibili, fioriere, paraventi, tutti di colore similare, cioè o bianco avorio o canna di fucile. Per l'ambito 2 sono previsti anche ombrelloni e tende da sole con specifici vincoli, per l'ambito 3, invece, previsti anche tettoie, pergolati o gazebo, ma tutti devono essere di colore chiaro o d'avorio. Si potranno soltanto fare dei gazebi in ferro battuto, con delle discipline anche di colore particolari, oltre alle solite pedane con i tavolini e gli ombrelloni, anche per intervenire in maniera decorosa nel centro storico. Tra le tante novità più rilevanti, anche quella della non assoggettabilità del parere della sovrintendenza delle belle arti e la possibilità, appena attivata la ZTL, di posizionare sedie e tavolini anche all'interno del perimetro di Piazza Catuma, come accade già in tante altre città della penisola. Immaginate Piazza Catuma, utilizzata come un salottino, dove gli esercenti e i cittadini potranno usufruire la bellezza della piazza.